Ciao a tutti cari amici e amici del Signore del Leone, ben ritrovati in mia compagnia queste sono le previsioni dal 19 al 25 dicembre 2022 innanzitutto buone feste, buon Natale siamo qui pronti, vi ricordo che queste sono energie generali quindi non possono valere per tutti per quello vi invito a optare per le mie consulti privati di cartomanzia lasciate un like, un commento e un feedback iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra questa è la vostra stesa per far prima, per agevolare un po' i tempi ho già selezionato le carte questa carta anche se la vedete al dritto è uscita al rovescio quindi le energie un pochettino cambiano allora qui durante questa settimana di Natale c'è l'area di collaborazione il voler stare insieme alle altre persone, ai vostri amici, ai vostri parenti, al vostro partner cercare proprio di fare un gioco di squadra, c'è della coesione, c'è maggior stabilità, maggior equilibrio alcuni di voi si prenderanno una pausa, ci saranno magari delle ferie durante questi giorni di Natale qui porterete a maturazione una situazione, una dinamica lavorativa nei rapporti interpersonali vi sentirete maggiormente radicati, vi sentirete con i piedi che comunque sia sono radicati al terreno verrete sostenuti nelle vostre scelte anche da una figura di sesso femminile o maschile dei segni di terra, toro, vergine, capricorno o chiave e ascendente in uno di questi segni oppure potreste essere proprio voi che darete un aiuto concreto, un sostegno ad alcune persone importanti nella vostra vita qui poi per alcuni di voi potrebbero esserci degli incontri amorosi o anche di semplice conoscenza anche tramite chat di incontri alcuni di voi magari avranno delle cosiddette trasgressioni sessuali quindi attenzione perché la carne è debole quindi attenzione per coloro che sono già in coppia che potrebbero anche avere delle esperienze extra dal puntista sessuale oppure per voi single potrebbero esserci degli incontri su stampo passionale non per tutti però potrebbe esserci anche questa cosa la carta del San Bugo in questo caso mi parla anche di segreti svelati quindi o voi svelerete a un qualcuno determinate cose vostre private e personali oppure voi verrete a sapere da parte di altre persone dei segreti segreti che vi riguardano oppure no segreti che riguardano terze persone quindi qualcosa che salterà fuori qualcosa che vi regala anche da puntista collaborativo professionale del gruppo familiare perché appunto qua è uscita proprio la carta del gruppo che può essere anche la cerchia di amici oppure l'ambito familiare qui in alcuni casi dovete fare attenzione visto che questa carta è uscita a rovescio dovete fare attenzione in alcuni casi a persone un po' arroganti persone che non sono per niente empatiche un po' che peccano di superbia ok? quindi persone che diciamo vi parlano alle spalle o vorrebbero pugnarvi alle spalle e inoltre in questo caso dovete anche riflettere sul carattere di determinate persone sull'atteggiamento appunto delle altre persone quindi dovete capire anche in alcuni casi quando esce questa carta se siete succubi di una relazione tossica di una relazione malata provate a rispondere a questa domanda perché dovete capire aprendo comunque bene gli occhi poi questa carta può riferirsi anche a voi cioè non per forza a terze persone quindi anche voi non è che magari siete un po' arroganti siete un po' intemperanti peccate un po' da puntista empatico quindi da chi proviene questo atteggiamento? da voi oppure da qualcuno che vi è vicino o che magari incontrerete proprio durante questa settimana ok? quindi questo è importante e poi è importante riconoscere i vostri limiti quindi questo fatto di conoscere i vostri limiti è il punto di partenza per superarli e trasformarli in punti di forza ok? quindi queste sono le energie per questa settimana di Natale e vi aspetto sempre qui sull'Età Comè ciao a tutti e alla prossima e vi aspetto a tutti i nostri limiti